Sono Pierluigi Petrillo, sono professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università Unitelma Sapienza di Roma e da dieci anni titolare del corso di teorie e tecniche del lobbying alla LUIS Guido Carlo. La lobby è un gruppo di persone accomunate da uno stesso interesse che si pone l'obiettivo di influenzare il decisore pubblico o i decisori pubblici al fine di ottenere un vantaggio o evitare uno svantaggio I lobbyisti sono soggetti diversi, abbiamo lobbyisti che operano all'interno di società specializzate nel fare lobbying conto terzi, su commessa abbiamo lobbyisti invece che dirigono uffici di relazioni istituzionali all'interno di società il cui scopo non è quello di fare lobbying ma all'interno c'è chi si occupa di promuovere gli interessi di quella società Qualche anno fa ho scritto un volume, ormai dieci anni fa, il cui titolo era Democrazie sotto pressione Perché? Perché è normale che in una democrazia, quindi in un sistema pluralistico in cui viene riconosciuta la libertà di associazione, di manifestazione del pensiero in cui ciascun individuo può organizzarsi per rivendicare rispetto all'autorità politica di intervenire a favore o contro una certa decisione è naturale che ci siano dei gruppi di pressione cioè dei gruppi di soggetti che esercitano una qualche influenza per indirizzare la decisione politica Da tanto tempo si discute di come regolamentare i gruppi di pressione e a parole sono tutti favorevoli La realtà è che dal 1976 ad oggi ci sono stati quasi cento disegni di legge in materia Nessuno dei quali ha superato anche solo lo scoglio di una commissione competente per materi La regolazione delle lobby è chiesta a gran voce dai professionisti più seri che vogliono attraverso regole uguali per tutti dare dignità a questo mestiere Chi non vuole la regolamentazione sono prevalentemente la classe politica, l'autorità politica perché oggi le lobby sono un paravento per la politica La politica può nascondersi dietro le lobby se non assume determinate decisioni È colpa delle lobby, lo sentiamo tante volte e spesso È colpa delle lobby se certe cose non vengono fatte o vengono fatte in un certo modo In Italia abbiamo una marea di norme che disciplinano il fenomeno lobbistico cioè l'interazione tra portatore di interesse privato e decisore pubblico Il problema di fondo è che queste norme sono disorganiche, frammentate ma soprattutto vengono disapplicate dagli stessi soggetti che le hanno introdotte Pensiamo alle norme sull'anagrafe patrimoniale degli eletti alle norme sulla partecipazione dei gruppi di pressione quando il governo è chiamato a redigere i disegni di legge e deve accompagnarli dall'analisi di impatto della regolazione Pensiamo alle norme sul finanziamento della politica cioè abbiamo tantissime norme che disciplinano il fenomeno lobbistico ma che strisciano all'interno dell'ordinamento come un serpente in un deserto noi possiamo vedere il segno che quel serpente ha lasciato sul deserto sulla sabbia, possiamo sentire il suono del serpente ma fatichiamo a individuare dove si trovi Ecco queste sono le norme sulle lobby nell'ordinamento giuridico italiano Si tratta di norme che vengono disapplicate dagli stessi soggetti che le hanno introdotte in questo senso possiamo dire che la regolamentazione italiana è una regolamentazione strisciante ad andamento schizofrenico perché si chiama schizofrenico l'atteggiamento di chi dichiara di volere certe cose e poi ne fa altre La lobby intesa come l'ho intesa certamente non olet perché dà un contributo al miglioramento del processo decisionale La lobby tuttavia rischia di avere un odore sgradito nell'assenza di regole che consentono di distinguere chi fa il lobbista per professione dai tanti faccendieri e personaggetti vari che si inventano lobbisti dalla mattina alla sera solo perché hanno una buona agenda Servono quindi delle regole per evitare che un'attività legittima, quella di pressione, diventi un'attività illegittima e illecita e a quel punto sì che emana un cattivo odore